Ciao ragazzi e benvenuti nel nuovo video di oggi. La storia di cui andremo a parlare ancora una volta si tratta di cose assurde che possono essere successe per amore. Diciamo la verità, l'amore può portare a compiere dei gesti assolutamente assurdi di cui ci si potrebbe pentire prima o poi. E il fatto che andremo a parlare oggi è proprio questo. Ma andiamo con ordine e vediamo adesso chi è la protagonista di oggi, tale Sara Lurderman, che nasce il 7 dicembre del 1990. La famiglia la adorava e il suo legame con i genitori era davvero molto forte. Dall'infanzia e anche l'adolescenza la ragazza è sempre stata però un pochino in carne e veniva molto spesso presa in giro dai compagni di classe che si sa quando si è giovani eccetera eccetera i bambini sanno essere veramente cattivi e questi commenti sul peso possono avere un impatto molto forte magari sulla fiducia di una persona. E tra l'altro di questo parlerò anche nel mio videogioco, quello che dovrebbe uscire l'anno prossimo a Unfollow. Tra l'altro chi volesse avere una demo di questo gioco potete trovare il link magari nel primo commento o nella descrizione di questo video. Vi potete iscrivere lasciandomi le mail e poi appena la demo sarà disponibile ve la manderò penso a gennaio. In ogni modo, tornando al caso di oggi scusate, la ragazza è un'ottima studentessa, amava gli animali e sperava tra l'altro un giorno di diventare una veterinaria. Tutto sembrava davvero procedere per il meglio fino a quando non incontra un ragazzo di nome Joshua. La ragazza non ha mai avuto un ragazzo prima e così quando a 17 anni incontra questo Joshua se ne innamora perdutamente. I genitori di Sarah notano come se ci fosse un cambio repentino diciamo del comportamento. Della figlia e la cosa non piace per niente ai genitori. Infatti i suoi voti si abbassano e la ragazza comincia a marinare la scuola e anche a perdere peso. La famiglia ritiene che questo Josh abbia una cattiva influenza su una persona ingenua come quella che potrebbe essere Sarah. Il ragazzo infatti era un noto playboy e anche un ragazzetto cattivo a detta comunque di vari genitori e persone che vivevano nella zona. Perché era anche un manipolatore, un fumatore, tutto tatuato. In passato tra l'altro erano girate delle foto di lui peraltro armato. Viveva a casa con sua madre e non aveva un lavoro e viveva con i soldi delle donne con cui usciva. Noi diciamo che non era proprio la persona migliore del mondo. I genitori di Sarah sanno che però non possono proibire alla ragazza di frequentarlo e quindi decidono di aspettare che la relazione faccia il suo corso diciamo. Sperando che si lasciassero. Ovviamente purtroppo se siamo qui a fare questo video le cose così non sono andate. E infatti la ragazza per amore si trasferisce nella Pillars Park High School per poter essere più vicina diciamo a Josh. La ragazza è così follemente innamorata del giovane che è pronta addirittura a tutto e fare qualsiasi cosa per poter stare con lui. Sfortunatamente però questo sentimento di dedizione non è per nulla reciproco. Anzi Josh sta frequentando una serie di altre ragazze tra cui anche la sua ex Rachel. Rachel nasce il 27 febbraio del 1990. È cresciuta con una famiglia amorevole e felice. E si è sempre comportata bene ma a 15 anni cambia completamente diventa una ribelle e litiga costantemente con i suoi genitori. Scappa di casa così tante volte che alla fine i genitori si stufano di cercarla e semplicemente chiamavano la polizia per denunciare la scomparsa. Rachel è famosa in città per essere molto libera e ha una lunga serie di fidanzati ex. A 17 anni decise di non voler più essere controllata dai genitori e quindi si trasferisce in un appartamento in affitto e inizia a lavorare come cameriera all'Apple B per mantenersi. E proprio durante un turno al ristorante incontra questo Josh. Quando il ragazzo aveva iniziato a frequentare Sarah si vedeva già quindi con Rachel e anche un'altra ragazza della quale aveva un figlio. Per un periodo le cose vanno bene a Josh perché Sarah al coprifuoco alle 11 mentre Rachel finiva di lavorare intorno a quella ora e quindi riesce senza troppi intoppi a mantenere entrambe le relazioni. Per quanto riguarda invece la terza ragazza, la mamma quindi del suo figlio, lei era praticamente abituata a vedere Josh con altre ragazze e quindi ha smesso di preoccuparsi. Quando alla fine Sarah e Rachel scoprono l'una dell'altra però la situazione diventa assolutamente pazzesca. Sarah è la prima a scoprire la verità dopo che Rachel posta una foto di lei e Josh su Facebook. La ragazza è gelosissima e chiede quindi subito spiegazioni a Josh che si limita a dirle che si ci vado a letto. Questa non è decisamente la reazione che Sarah si aspettava e si infervora ma al posto di affrontare Josh decide di puntare alla sua rivale. Questa è una cosa che spesso sento ma scusate se Josh vi ha tradito prendetevela con Josh, cosa ve la dovete prendere con l'altra ragazza? Cioè sinceramente ad ogni modo da quel momento in poi come potete immaginare le cose vanno sempre peggio. Sarah ha posto una foto di lei e Josh durante una gita a New York e ovviamente Rachel va su tutte le furie quando la vede. Si precipita su MySpace a lamentarsi dicendo che meritava di meglio ma Sarah la prende in giro scrivendole pensi di trovare di meglio? Al che l'altra si arrabbia così tanto che le lascia un messaggio vocale furioso. Le ragazze iniziano una vera e propria guerra e nessuno osa mettersi in mezzo. Si scrivono post minatori, si mandano messaggi sconvolgenti e si minacciano a vicenda. E Josh non fa niente per porre fine alla cosa, anzi probabilmente ne era pure lusingato. Continua a frequentare entrambe le ragazze senza darsi neanche più la pena di nasconderlo. Un giorno con Sarah e un giorno con Rachel sembrava divertirsi a vedere le due ragazze litigare per lui al punto da quasi incoraggiarle. Da un po' di tempo la situazione sfugge a ogni controllo. Le ragazze iniziano a stalkerizzarsi a vicenda e anche a farsi cose orribili. Una sera Sarah e i suoi amici vanno al ristorante dove lavora Rachel e si mettono a ristorbarla cercando di farla inciampare, farle cadere i vazzoi e durante il karaoke cantano la canzone Girl Fight indicandola insistemente e prendendola in giro. Un'altra volta Sarah rinsegue Rachel con la sua macchina ed espruzza stelle filanti spray addosso. La sera del 14 aprile del 2009 Rachel è da sola nel suo appartamento ad aspettare Josh quando sente Sarah urlare fuori dalla porta «Stai alla larga dal mio uomo!» La ragazza si spaventa moltissimo credendo che Sarah e i suoi amici la stiano aspettando sotto casa. Prende un coltello da bistecca e chiama il suo ex ragazzo, Javier, che la invita ad andare a casa sua. Rachel aspetta che Sarah se ne vada per uscire di casa portando dietro il coltello e va a casa dell'ex. Contemporaneamente Sarah si trova a casa di Josh a guardare un film e a giocare a videogames con il giovane e i suoi amici. Alle 23 Sarah riceve un messaggio dal padre che le ricorda del coprifuoco e quando sta per andarsene Rachel incomincia a scrivere a Josh. La ragazza va su tutte le furie e chiama Rachel. Le due iniziano a litigare al telefono minacciandosi a vicenda. Appena prima di mezzanotte Sarah decide finalmente di andare a casa e la sorella di Josh le chiede un passaggio per recarsi in un vicino fast food. Mentre sono per strada vengono a sapere che Rachel si trova a casa di Javier e Sarah decide di andarci e affrontarla. Appena la ragazza parcheggia la macchina Rachel le corre incontro. Le due si mettono a litigare e a picchiarsi. All'esterno sembrava una normale catfight tra due giovani ragazze ma non è così. Lo scontro dura pochi secondi e quando le due si separano Sarah è a terra con un coltello nel petto. Rachel è immobile paralizzata con lo sguardo fisso e dice solo ho finito. Dopodiché butta il coltello sul tetto della casa del vicino. A quel punto Sarah che sta sanguinando fa qualcosa che lascia sconvolti tutti. Riesce ad arrivare alla propria macchina stringendosi il petto tira fuori il telefono e fa una chiamata a Josh e gli dice fa male. È assurdo è stata colpita a morte a caso di quel ragazzo. Al posto di chiamare i soccorsi o la sua famiglia decide di chiamare proprio lui. Josh corre a casa di Sarah e racconta che era successo al padre di lei. La ragazza viene trasportata in ospedale ma sfortunatamente non sopravvive. Rachel scoppia a piangere più tardi quando la polizia le dice che Sarah è morta a causa della ferita. Afferma che non intendeva fare del male a Sarah ma stava solo cercando di difendersi. Racconta di essersi addirittura dimenticata che stesse stringendo un coltello quando le due avevano iniziato a litigare. Rachel viene arrestata e accusata di umicidio di secondo grado. Durante il processo l'accusa racconta tutta la storia della rivalità tra le ragazze a causa di Josh per dimostrare come Rachel volesse in realtà uccidere Sarah. La difesa si appella alla legge della Florida stand your ground secondo la quale una persona può scappare da un assalitore ma reagire anche con la forza se sente che la sua vita è in pericolo. Tuttavia molti testimoniano che Rachel trovò Sarah in macchina e la pugnalò aggiungendo inoltre che avevano sentito Rachel minacciare Sarah alcuni minuti prima dell'incidente. Anche Josh compare davanti al giudice come testimone e quando gli viene chiesto della sua relazione con Sarah la definisce un'amicizia con benefit. Dice che lui e Sarah non si stavano frequentando seriamente e che erano liberi di vedere e avere rapporti con chi volevano. Nonostante la richiesta della famiglia di Sarah che chiese l'ergastoro Rachel fu condannata per umicidio di secondo grado a 27 anni di prigione ricorse in appello ripetendo di aver agito per difesa ma perso nuovamente. Al momento sta scontando la pena nel Lowell Correction Institute. Nel corso di un'intervista nel 2011 Rachel disse che vorrebbe aver agito diversamente, vorrebbe aver avvicinato Sarah per poter parlare e sistemare la situazione senza che tutto ciò degenerasse. Personalmente sono profondamente dispiaciuto per quello che è successo a Sarah ma in parte anche a Rachel. Una ha perso la vita e l'altra si è rovinata a causa di uno stupido ragazzo che probabilmente mentre loro litigavano vedeva già altre ragazze e non era realmente interessata a nessuno di loro. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Grazie per aver seguito il video di oggi e ci vediamo al prossimo!